Il posizionamento è un elemento chiave della gestione della presenza online del nostro hotel eppure, caro albergatore, effettivamente lo ignori. E quindi che cosa succede? Vai a creare una comunicazione che è molto sterile, quindi non permette alle persone di valutare effettivamente quello che offri e si finisce poi per decidere tra te e il tuo competito solo sul prezzo. Vuoi evitare tutto ciò? Vuoi mettere in risalto i fantastici servizi che tu offri bene? Questo è il video che fa per te. Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Parleremo di posizionamento e cercheremo di capire come rendere il nostro hotel unico e speciale, metterlo sotto riflettore lì nel mondo digital e magari sui social. Perché parliamoci chiaro, abbiamo siti web che a volte sono addirittura fermi a 2006, dove ci sono informazioni sterili. Magari ci definiamo un family hotel, però non andiamo a sottolineare quelli che sono i servizi per le famiglie. Oppure siamo un hotel pet friendly, ma i nostri clienti non lo sanno, anzi non i nostri clienti ma i nostri utenti, coloro che vengono a cercare le informazioni su di noi. E quindi le persone come fanno a decidere se venire o meno nel nostro hotel? Che cosa valutano? Magari possono valutare la posizione, ma se non avete una posizione fantastica come fate? Quindi finisce tutto nella valutazione del prezzo. Tra te e il tuo competito molto probabilmente sceglieranno il prezzo più basso. E vale la pena fare la guerra dei prezzi? Con tutte le spese che hai, tutto quello che devi affrontare è giusto che tu ti faccia pagare il giusto per le tue camere. Ma devi aumentare il valore percepito di quel prezzo che tu poi vai a presentare ai clienti. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo entrare nella testa delle persone per capire che siamo specializzati in qualcosa. Nel momento in cui io devo andare in vacanza e sono così come sono adesso sposata con due bambini, ma di certo non mi vado a cercare un hotel per sugli adulti. Ovviamente quelli nemmeno mi accettano con due pargoletti, con due mostriciattoli. Ma che cosa succede? Invece mi vado a cercare un albergo che risponda alle mie esigenze. Quindi magari devo avere un posto dove poter riscaldare il latte, preparare le pappe per i miei figli, avere lo spazio per poterli lavare, cambiare, avere un posto che mi aiuti e faccia diventare la mia vacanza un relax e non uno stress perché non ho le mie comodità. Ma stessa cosa, magari io posso scegliere un albergo perché abbraccia i miei valori eco-friendly. O ancora meglio, ho un amico a quattro zampe che deve venire con me in viaggio, non ho nessuna intenzione di lasciarlo da qualche parte o disturbare un parente. E quindi che cosa succede? Voglio portarlo, magari facciamo finta, una zona di mare in un albergo che risponda anche a questa esigenza. Quindi accettate in cani spiaggia, bene me lo dovete far sapere, ci sono delle aree comuni attrezzate, calcolate che ci sono degli hotel, villaggi, turismi, pet friendly che hanno addirittura delle zone recintate con agility dog ad esempio. All'arrivo ti danno la ciotola, ti danno i croccantini, fanno in modo di coccolare il tuo amico a quattro zampe. Quindi capite bene come se io ho questa esigenza, se ho bisogno di viaggiare con il mio amico a quattro zampe, come vado a scegliere maggiormente questo tipo di hotel, perché poi parliamoci chiaramente. Chi accetta i cani, o comunque l'amico a quattro zampe, lo fa a volte se non è specializzato fino a un certo punto, quindi accettano chi ha i magari di piccola taglia. Invece no, se io viaggio con un amico a quattro zampe che è un bestione, beh devo poterlo portare anche lui con me. Ma non è finita qui, beh ci sono gli hotel che soprattutto durante l'inverno lavorano per gli uomini d'affari. Ebbene se io sono uomo d'affari devo capire se ci sono dei servizi che fanno a caso mio, come ad esempio magari una sala riunioni che posso affittare all'occorrenza, una stampante, cose in camera che mi possono aiutare a lavorare, addirittura a volte anche banalmente una postazione che mi permetta di poter rimettere lì e lavorare anche la sera. Oppure addirittura ci sono gli hotel dedicati agli amanti dello sport, quindi mette in risalto quelle che sono tutti gli impianti sportivi e magari il fatto che offri delle lezioni, che tu hai anche la palestra all'interno del tuo hotel. Non basta dire ah sì c'ho la palestra e metti una foto, magari dire che magari c'è un istruttore, tutte le cose che possono invogliare le persone a dire ok preferisco andare da loro. Non fa niente che hanno magari il costo più alto, però mi offrono i servizi che io sto cercando e che io voglio, che mi permettano di passare una fantastica vacanza. Un altro esempio che posso fare è quello degli hotel per suoli adulti, perché ci sono coloro che vogliono andare in vacanza, che magari non hanno figli, oppure che lasciano i figli a casa e non vogliono sorbersi i figli degli altri. Possono decidere di farlo benissimo e ci sono alberghi che offrono questo. Abbiamo camere che sono solo per gli adulti e magari accettano ragazzini a partire dai 13 anni. Quindi non rischi di andare in vacanza e di stare magari a bordo piscina e sentirti il pianto del bambino di due anni di quello che sta anche lui in hotel con te. Scelte? Benissimo. Non vai a prendere tutti, perché questa è la paura di creare un posizionamento. C'è il momento in cui poi vai a comunicare tutte queste cose e poi cosa succede? Ah ma io poi non prendo quello, non prendo quell'altro se mi viene la famiglia con il bambino, se poi quello non vuole il cane, ma ecco questa è la paura, è questo che vi fa frenare da creare effettivamente un posizionamento e di evitare la guerra dei prezzi. Beh credetemi, non tutti sono disposti ad ascoltarvi, non tutti, voi non parlate a tutti. Quindi che cosa significa? Che voi dovete individuare il vostro target, parlare a quel target e far sentire loro quello che vogliono sentirsi dire. Nel momento in cui io cerco un hotel pet trendy, io voglio sentirmi dire come tu curerai il mio cane, quali servizi mi metterai a disposizione. Vedrete che adottando un posizionamento strategico, voi la smetterete di fare la guerra dei prezzi in base al vostro competitor. E se volete magari aiuto in questo, possiamo fare una call conoscitiva. In descrizione trovate il link, la pagina dove la potete prenotare. È una call conoscitiva con me, è gratuita, è senza impegno e vi permetterà di conoscere qual è la vostra situazione online, perché in chiamata io vi farò un'analisi della vostra presenza online attuale e di quello che poi noi potremmo andare a fare insieme. Quindi che cosa aspetti? Prenota ora una chiamata, ma non dimenticare prima di andar via di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto attivando le notifiche, così da non perderti tutti i miei contenuti. Sono certa che questo video ti sia stato utile e che ti porterà a riflettere. E me lo racconterai o nei commenti o direttamente in chiamata. Besos! Grazie a tutti!